Buon pomeriggio, ben trovati nuovamente a Pubblica Piazza. Seconda puntata in trasferta, la location è sempre uguale. Siamo nel territorio di Corigliano Rossano, nell'hotel Marco Roscianum che vogliamo ringraziare perché era già stata la nostra location nella precedente puntata. Perché è qui da Corigliano? Questo è l'inizio della nuova stagione di Pubblica Piazza, abbiamo cambiato fascia oraria, dalla prossima settimana saremo in diretta sempre nello stesso orario, ma abbiamo voluto iniziare in trasferta perché è in corso un evento significativo non solo per questo territorio ma per tutta la regione e cioè è in corso l'unificazione di due grossi comuni che sono appunto Rossano e Corigliano e che stanno per diventare la terza città della Calabria, come abbiamo già detto nella precedente puntata, primato soffiato alla mezzia terme che per ironia della sorte era la terza città, anch'essa in conseguenza è frutto di una unificazione, unificazione avvenuta 50 anni fa, oggi una unificazione di questa proporzione qui, ma penso anche nel mezzogiorno sia unica nel senso che ci sono stati degli accorpamenti, ma soprattutto tra piccoli comuni, penso a Casali del Manco, ma una realtà di queste proporzioni non c'è allo Stato o in corso nessuna unificazione in nessun'altra parte del mezzogiorno. Prima puntata l'abbiamo dedicata a un dibattito politico, oggi siamo tra l'economia e il sociale, perché è una città, anche aspetti urbanistici, sull'ambiente, sulla urbanizzazione di questa nuova città, perché è una città non è fatta solo di somma di ricchezze, risorse economiche, politiche, civiche, è qualcosa di più complesso, qualcuno diceva che bisogna formare i cittadini della città rossano-corigliano nascente. Però i cittadini, dicevamo, sono già abbastanza avanti, visto che le proporzioni e le percentuali con cui hanno votato e hanno aderito all'idea di unificare quest'area sono state consistenti, quasi bulgare, almeno per Rossano mi pare abbiamo raggiunto la percentuale di oltre il 90%, ma anche il 60% per Corigliano è una percentuale significativa. Bene, a fianco a me c'è Marco Lefosse, che è il nostro corrispondente su quest'area, mi ha supportato già nella precedente puntata, è conoscitore del territorio ed è comunque uomo di la C News 24, oltre che di la C, e poi io andrei a presentare gli ospiti. Parto dalla mia destra, dove c'è Gino Campana, che è il segretario, il responsabile della WillTech, mi spiegava nel fuori hondo tessili, energia e chimica, insomma c'è un accorpamento nelle serie sindacali, nei tempi passati, queste erano categorie separate. Poi alla mia sinistra abbiamo invece Francesco Galati, Francesco Galati è il presidente della Corigliano Rossano Football Calcio Femminile a 5 e loro l'unificazione l'hanno già fatta, con lui non solo parleremo di questa esperienza sportiva, ma parleremo dell'opportunità e di quanto sia importante lo sport in una nuova identità chimica. Le squadre di calcio, il tifo sportivo fa e gioca il suo ruolo. Poi abbiamo invece Salvatore Martilotti, che è presidente dell'associazione Piccoli Pescatori, però insomma lui si occupa del settore da tempo, quindi in una realtà come Corigliano, che c'è un porto importantissimo, una frazione come Schiavonea, insomma, che il settore della pesca può rappresentare, non solo lo è stata, ma può rappresentare una potenzialità in crescita molto importante. E me la sono riservata in ultima, ma non perché ultima, perché è una signora, è Francesca Felice che è qui come architetto urbanistica e segue alcuni progetti urbanistici molto importanti in questo territorio. Con lei parleremo appunto di quanto è importante il riordino, il riassetto urbano, ma la potenzialità anche di sviluppo legata al recupero urbano e dei centri storici in particolare, ricordiamo Rossano e Corigliano sono due realtà dalla lunga storia e di conseguenza i loro centri storici sono centri storici importanti, che insomma guidano e rappresentano la storia di secoli in questo territorio. Bene, come al solito ci rivedremo i compiti, inizio io e vorrei iniziare un po' con Salvatore Martilotti, Presidente di questa associazione piccola pesca. Su questo settore c'è grande fermento, non solo qui nella città Rossano-Corigliano, ma insomma un po' tutta la Calabria, io ho seguito vertenze su questo fronte giornalisticamente parlando, però insomma ho incontrato i pescatori di Vibbo, ho incontrato i pescatori di Palmi, ho incontrato quelli di Bagnara, che insomma quando si va da loro, sono stato con loro in una barca per una nottata per vedere la vita che fanno, perché c'è una grossa contestazione, diciamo, c'è una grossa contestazione anche alle politiche comunitarie rispetto, diciamo, alle problematiche della pesca e per ora rappresenta una risorsa, qui c'è un porto, c'è un'area, 40 km di costa, diciamo, la pesca può diventare elemento di traino sviluppo, raccomando a tutto la brevità nelle risposte, così insomma avremo modo di dibattere su più argomenti. Prego. Grazie per l'invito e sicuramente per la Cineuso 24 non è la prima volta che si occupa del mondo della pesca, io ricordo perché per 20 anni ho guidato un'organizzazione professionale della pesca calabrese e quindi sin dal suo nascere, Cineuso 24, si è occupato verso i problemi del mare, a partire giustamente da quelli vibonese ma anche, voglio ricordare, anche quelli crotonese dove gli altri inquinano, i pescatori pagano. Che cosa c'è da dire su quello che è avvenuto, su questo cataclisma che è avvenuto in questo territorio? Dal punto di vista istituzionale è stato sconvolto tutto perché è stata messa in piedi il terzo comune per abitanti della Calabria, il comune con una delle maggiori estensioni territoriali e con la maggiore estensione litoranea. Allora a questo punto, visto che la sfida di questo nuovo comune deve essere rappresentata soprattutto dal costituire questa nuova comunità che è fatta di identità diverse, che non sono solo maggioritarie quelle di Corriano e Rossano, ma a partire da quelle di Schiavonea ci sono tante altre identità che devono concorrere a realizzare questa nuova grande comunità. Per fare che cosa? Certamente fare tutto quello che è necessario nell'organizzazione complessiva di questo territorio, dai trasporti ai servizi più rilevanti, alla cittadella dei servizi, al nuovo ospedale, al tribunale, a tutte le altre cose, però a mio modo di vedere la sfida che gioca questo nuovo comune è che questa volta lo sviluppo può venire dal mare. Come può venire dal mare? Può venire dal mare perché essendo il comune con il maggior sviluppo costiero della Calabria significa che noi dobbiamo fare solo attenzione, riposizionare e avere il coraggio di cambiare le cose che sono in atto, cioè tutti gli strumenti che dalla programmazione comunitaria vengono fuori per governare la fascia costiera che il centro motore di sviluppo di attenzione di tutto, noi dobbiamo posizionare al centro il nuovo comune, Corgliano Rossano. Allora se partiamo da questi presupposti ai nuovi amministratori che andremo ad eleggere nella prossima primavera partiranno da questo, probabilmente il mare darà un grande impulso verso lo sviluppo. Perché dico la fascia costiera? Perché la fascia costiera non è solo l'oggetto di uno strumento innovativo sul piano comunitario come possono essere i gruppi di azione costiera, i famosi flag come acronomo, ma c'è tutto un interesse particolare dal punto di vista ambientale, turistico, della balneazione eccetera che va a essere un elemento molto rilevante per l'organizzazione complessiva dello sviluppo. Perché noi non vogliamo dimenticarlo, io per prima che sono stato uno dei cittadini che si è dato anche da fare come tanti altri, tutti auspichiamo come cittadini di questo nuovo comune che si vada in direzione dello sviluppo e dell'occupazione, altrimenti forse abbiamo sbagliato i conti. Allora per far questo bisogna cercare che noi ragioniamo in maniera diversa, dobbiamo ragionare non secondo come figlia della cassa del mersogiorno ma dobbiamo ragionare in maniera differenziata, pensare agli strumenti comunitari e come calarli e utilizzarli in questo territorio. Qui il flag di quest'area, io mi permetto di dirlo perché sono stato l'animatore in Calabria dei flag nella programmazione 2007-2013 e quindi pertanto dico qui stiamo sbagliando tutti perché abbiamo una serie, una dotazione finanziaria e una serie di orientamenti che non sono quelli che la nostra aria richiede, così com'è nel Vibonese, come può essere nell'area dello stretto e come può essere in altri territori. Poi mi viene, scusatemi, anche le scelte fatte a livello regionale contrastano con l'utilizzo del mare come motore di sviluppo perché io ricordo benissimo noi alcuni anni fa proprio in concomitanza con la messa in piedi della legge di settore per la pesca in Calabria mai decollata, però per solo le 24 ore era una delle leggi più innovative nel panorama italiano. Lì contestualmente con l'istituto di studi economici con il quale collaboravo allora tirammo fuori uno studio che noi chiamiamo SIPAC, Sistema Informativo sulla Pesca Calabrese e lì venne fuori il concetto di macroaria perché era compacente a quella che era la filosofia comunitaria, cioè creare coesione per aprire la porta allo sviluppo. Allora per fare questo noi dobbiamo attrezzarci. Allora qui la prima cosa vanno rimodificate e rimodulati i gruppi di azione costiera perché qui non rende, c'è solo una spesa corrente che viene solo giustamente rendicontata però non crea né sviluppo né occupazione e poi ironia della sorte in questo litorale ci sono tutti tranne che i pescatori costieri artigianali. Io che rappresento il comitato dei pescatori costieri artigianali Corigliano Rossano dobbiamo prendere atto che ci sono tutti ma non ci siamo noi. Allora dico come lo realizziamo questo sviluppo se questo è lo strumento principe sul piano comunitario attenzione sul piano comunitario in tutti e 27 paesi ci sono poco più di 500 flag e mentre negli altri paesi hanno realizzato sviluppo diciamo che anche con spese nostre siamo andati anche a costatare in tanti paesi dalla Spagna al Portogallo alla Francia come si fa sviluppo con questi risultati. Noi purtroppo ahimè ancora come figli della cassa del Mersogiorno non siamo riusciti ad accendere la luce verso lo sviluppo. Dobbiamo modificare le cose bisogna modificare le cose perché se si modificano possiamo implementare. Il dato certo adesso qual è? Che ancora una volta il mare e la pesca rappresentano una palla al piede della nostra regione. è il fatto che questo settore in termini complessivi stia scemando e siamo passati, attenzione, da quando lei si è occupata di vibbo quando col famigerato messo al bando delle spadare, alla data odierna in Calabria abbiamo perso oltre 500 battelli con oltre mille persone espulsi dal settore. Quindi evidentemente significa che c'è qualcosa che non va. Noi dobbiamo, abbiamo bisogno di cercare di ripartire dal mare in una logica di intersettorialità lungo la fascia costiera. Ci torniamo, ci torniamo. Ci torniamo perché insomma 800 km di costa alla regione, insomma intanto abbiamo messo in campo già una linea su cui si dovrà muovere una grande area che dovrà essere una delle aree che peseranno nello sviluppo della regione. Io voglio passare diciamo ad un altro aspetto della medaglia che però insomma è la stessa. Siamo qui a pochi metri da una centrale elettrica dell'Enel, l'ex centrale dell'Enel, dismessa, in passato ha rappresentato un fonte di economia, di traino, di indotto e c'è un'area che io vedo come tante della Calabria, industriale che potrebbe avere potenzialità anche per come è ubicata, ma anche depressa, dismessa, degradata. Ecco, un sindacalista che segue questo settore, tessele, energia, chimica, in un'area che insomma qui potrebbe esserci un polo energetico, perché insomma in quest'area ci sono tutta un'altra serie di possibilità, di centrali, insomma più sopra c'è la centrale, una centrale del Bogas, il tessele è stato diciamo. Ecco, questa nuova città, la terza, come si dovrà portare rispetto a queste problematiche? Beh io, innanzitutto grazie per l'invito, perché è l'occasione giusto per chiarire quello che potrà essere il futuro di questo sito, ex sito energetico, questo sito che ha visto migliaia di persone lavorare all'interno, cioè c'è stato un grande sviluppo, qualcuno dice addirittura che la nuova città di Rossano, adesso Corigliano Rossano, sia venuta su anche grazie agli investimenti che sono stati fatti da Enel per questa centrale. Ci sono state tante lotte nel passato, perché si voleva trasformare, poi l'Enel stessa ha bandito dal suo progetto complessivo per il futuro del carbone, per cui è fallito quel vecchio progetto della stessa Enel. Adesso qual è lo stato delle cose? Adesso lì all'interno lavorano pochissime persone, stanno provando a mettere in sicurezza alcuni impianti, nel senso che stanno liberando da possibili, pericoli che sono dovuti all'amianto, da possibili pericoli che sono dovuti all'ambiente, perché stanno facendo carotaggi per capire un attimino se ci sono state dispersioni, eccetera, ma più di questo non c'è. Attualmente in quella centrale lavorano non più di 25-30 persone, per cui rispetto al passato che vedeva migliaia di impiegati e di lavoratori lì all'interno, insomma c'è niente. Per cui c'è da dire che l'Enel ha proposto per le centrali di smesse, che sono ben 23 in Italia, ha proposto un progetto che si chiama Progetto Futurè. Queste centrali le mette in vendita, le offre al territorio, agli imprenditori che vogliono investire, per provare a costruire qualcosa di diverso, perché al momento attuale la Calabria non ha bisogno di energia elettrica. La Calabria viene servita, o meglio, più che viene servita, la Calabria utilizza l'energia elettrica prodotta dalle centrali idriche di Cotronei e di Acre, cioè voglio dire non ha grandi necessità, anche perché purtroppo per noi non ci sono industrie e quindi non c'è lavoro. Ci sono diverse centrali a turbogas, diverse centrali a biomasse, quella del Mercolo a cui faceva riferimento lei prima, altre su Crotone e così via, ma non serve energia elettrica. Per cui se questo progetto Futurè va davvero avanti, cosa che è andata avanti, che so, per esempio a Piombino, dove hanno scelto di fare un centro congressi, mi ricordo Livorno, dove hanno scelto di fare un centro commerciale, c'è la centrale di Bari che nel frattempo è andata a finire nel contesto urbano, che probabilmente sarà pure, anzi è sicuramente interessata pure a questo progetto Futurè e faranno qualcosa di diverso dalla produzione di energia elettrica. Ecco, qui a Rossano stiamo aspettando ancora. C'era l'impegno da parte di Enel di farci capire, entro settembre, già siamo in ritardo, che cosa sarebbe avvenuto di questa centrale? Perché ci sono stati dei progetti presentati, ne era stato scelto uno, poi non so per quale motivo la cosa non è andata avanti. Un secondo progetto, però che è piccolino, riguarda solo il 10-15% dell'estensione di tutto il territorio della centrale, riguarda la produzione di alga ai fini alimentari, ai fini di prodotti cosmetici, eccetera, e questo mi pare che sia uno dei progetti che è sicuramente in via di risoluzione, dovrebbe partire da qui a breve, stando a quello che ci dice l'Ener, che ci dicono i responsabili di Futurè. Ma questo progetto piccolino che, ripeto, riguarda il 10-15% dell'estensione del territorio interessato della centrale, riguarderà in futuro, quando tutto sarà produttivo, riguarderà 70-80 persone, non di più. Allora tutto il contesto, tutto il resto che doveva, in un primo momento si vociferava che ci fosse stato un interesse di un imprenditore del territorio per la costruzione di un mega impianto di ricettivo, alla fine poi non si è concretizzato. E allora anche qui, secondo quello che mi riguarda, la politica dovrebbe avere anche qui un sussulto, come diceva prima Martilotti per la pesca, anche qui è la politica, speriamo nei nuovi amministratori che verranno fuori nella prossima primavera e che si interessino e che davvero battano i pugni sul tavolo perché questa cattedrale nel deserto che non è più produttiva, che non dà più nulla al territorio, o fanno qualcosa di produttivo, qualcosa che dia al territorio ricchezza come ha dato in passato, oppure una classe politica che metta il dossier sul tavolo. I nuovi politici dovranno... Dovranno dimostrare tutto il loro potere contrattuale. Architetto, se diamo il microfono all'architetto Francesca Felice, una città ha una serie di problematiche con una città che deve nascere, in questo caso sono due città che si devono conurbare, però qui non siamo di fronte a una città contemporanea, nel senso che ci sono paesi, insomma c'è una storia. Qui siamo di fronte, diciamo, si parte da due cuori che sono i centri storici. Si parla tanto di recupero dei borghi, di albergo diffuso, di valorizzazione dei beni culturali, architettonici, di naturalità, c'è il degrado di alcuni... di questo enorme patrimonio culturale che c'è in Calabria, anche sul piano urbanistico. Ecco, questi due centri come potrebbero essere oggetto di un piano urbanistico di recupero e di messa in sintonia? Intanto grazie per l'invito. Sì, esattamente, secondo me è proprio da qui che bisogna partire. Cioè, la sfida più grande è quella di mettere insieme i due centri storici, di mettere insieme il patrimonio immobiliare dei due centri storici e creare, perché no, il più grande albergo diffuso della Calabria, che probabilmente lo sarebbe anche d'Italia. Mi sono assegnato un paio di dati, perché il centro storico di Rossano è di circa 357.000 metri quadrati, quello di Corigliano 247.800, insomma, giù di lì, e quindi il totale farebbe 600.000 metri quadrati di territorio urbano di centro storico. E quindi creare un grande albergo diffuso, in termini quindi di accoglienza, di ospitalità, potrebbe effettivamente essere il valore aggiunto e potrebbe essere il punto di forza di questo territorio, di questo territorio nella fattispecie della città Corigliano-Rossano, ma anche di tutto l'Interland che ruota attorno a quest'area importante della nostra costa. E quindi parliamo di riuso, di rifunzionalizzazione, di riqualificazione di questi immobili. Come lo si può fare questo? Io sono anche responsabile del progetto Nossos. Abbiamo già... Ecco, diciamo, è un percorso che abbiamo avviato con diversi centri storici del territorio, più piccoli, chiaramente, rispetto a questo che sarebbe enorme. Ed è un percorso di analisi, prima di tutto, e di anche sensibilizzazione da parte sia del cittadino che di chi poi viene ad essere accolto all'interno del centro stesso. Quindi noi parliamo di albergo diffuso, perché è Nossos rete degli alberghi diffusi, ma parliamo anche di come arrivare a questo processo di albergo diffuso, perché non è immediato, cioè non si può parlare di ristrutturazione degli edifici, di riqualificazione degli edifici, senza comunque un progetto culturale che c'è dietro ed è a monte rispetto a questo. Abbiamo diversi esempi in Calabria, ora non li cito magari perché, insomma... però in cui è fallimentare questo, per cui si è ristrutturato e queste case sono vuote e sono disabitate. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo mappato i singoli centri storici, quindi andando ad analizzare ogni singolo edificio ricadente all'interno del centro storico, con delle vere e proprie schede. Quindi siamo andati ad individuare quelle che sono innanzitutto le caratteristiche esterne dell'edificio stesso, quindi lo stato di degrado, se era gravemente ammalorato in medio stato o in buono stato. Siamo andati a capire, a tirare fuori anche dei dati utili per la finalità ricettiva alle quali destinare queste strutture, che sono quelle dell'abitabilità o comunque anche dell'utilizzo dell'edificio stesso, per cui questo edificio è disabitato, in che modo sono completamente disabitati stagionalmente oppure sono abitati quotidianamente. Quindi tutta una serie di dati che i comuni recepiscono per utilizzarli poi con una finalità ricettiva, quindi un'analisi dei luoghi, un'analisi dello stato di fatto, che può essere un mezzo buono dal quale partire. Chiaramente parliamo di un contesto in cui, parlo solo della Calabria, è anche un po' più esteso il discorso, in cui il turismo estivo è fallimentare, perché abbiamo dei periodi che si accorciano sempre di più, quindi l'estate, che normalmente potrebbe, soprattutto qui a sud, potrebbe durare tre mesi, cioè in realtà poi noi abbiamo una ricettività che vale soltanto per gli ultimi 15 giorni di agosto, comunque per il mese di agosto, quindi si sta riducendo sempre di più. E quindi questo comporta comunque un deficit che abbiamo attualmente. Si parla tanto di turismo, ma poi insomma questi sono i dati. Questi sono i dati, quindi siamo anche poco competitivi rispetto al mercato alla pari, diciamo, ci sono tante coste e tanta offerta turistica che sicuramente è anche più allettante della nostra. Mi fermiamo perché poi io dovrò chiederle altre cose, perché questa è una cosa importante, perché questo talk sta mettendo tre o quattro bombe, adesso aggiungiamo quella sportiva sociale che dovrà gestire questa città, la nuova città e la nuova classe dirigente. Francesco Calati è presidente di questa squadra di calcio femminile A5, che già insomma è Corigliano Rossano. Abbiamo brevemente, poi riprenderemo da lei perché andremo in pubblicità, però lei dico, insomma è stato facile mettere insieme questa squadra di ragazze? Assolutamente no, quando si inizia un progetto da zero come abbiamo fatto noi devi essere molto motivato. Io avevo già esperienza con il calcio a 11, ho colto al balzo questa occasione della fusione, ho pensato che non ci fosse migliore occasione di poter cercare di unire le due anime, mi unisco prima al discorso dei centri storici, c'è bisogno di unire due anime che attualmente purtroppo dovute a discorsi campanilistici o altro, sono due anime separate. Quale migliore occasione di cercare di rendere, diciamo, motivo d'orgoglio, magari augurandoci un percorso vincente con una squadra unica, che potesse, insomma, racchiudere anima coriglianese e rossanese. La difficoltà è non avere giocatrici, diciamo, del posto, perché c'è stata solo un'esperienza qualche anno fa con l'Olimpica Corigliano, una squadra di calcio a 11 che ha avuto degli ottimi risultati, poi, diciamo, il nulla. Quindi abbiamo dovuto iniziare con ragazze di fuori, ragazze di Lamezia, di Catanzaro, di Cosenza, e qualche ragazzina del posto, perché ovviamente bisogna coltivare anche giovani talenti per poter avviare un progetto di lunga durata. Poi ne parleremo, diciamo, anche rispetto, insomma, con quale strutture possiamo, perché non c'è sport che non abbia dei centri di aggregazione, altrimenti, insomma, diventa tutto più difficile. Però il lavoro che lei fa, le sembrerà, ma è fondamentale. A Lamezia, per esempio, non ci sono riusciti in 50 anni. C'era la Vigor Lamezia, che è la squadra di Nicastro, e quella di Sambiase, e non vi dico, insomma, la competizione. Pubblicità, poi ci ritorneremo subito in studio. Eccoci qua, dopo la pausa pubblicitaria riprendiamo nella seconda parte di Pubblica Piazza, siamo sempre a Corigliano, stiamo discutendo con professionisti, rappresentanti sindacali di alcune categorie, anche un presidente di una squadra di calcio femminile, stava parlando proprio io, lui, poi, insomma, se vuole concludere, lo facciamo concludere, intanto io pregherei Marco di prepararsi, no, no, io, se vuole aggiungere qualche cosa a quello che stava dicendo nella prima parte, può farlo, perché, insomma, l'abbiamo un po' stroncata. No, 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 ci mancherebbe, io sono molto breve, perché sono convinto che se riuscissimo a fare qualcosa di buono, perché l'aspetto sociale in questa situazione non è secondaria, in tutte le cose che, diciamo, sono, tra virgolette, forzate, come un'unione tra paesi che hanno una storia, diciamo, parallela, come Rossano e Corigliano, penso che l'aspetto sociale sia fondamentale. Noi cercheremo, con diverse attività, inserendo la squadra nel territorio sia di Corigliano che di Rossano, di unificare, cercare di unire il quanto più possibile queste due tradizioni, diciamo, semplicemente questo. Marco, a te la mano. Sì, grazie, direttore. Io volevo lanciare un po' delle provocazioni, anche perché siamo in un territorio in cui, diciamo, le sfide... Anche perché quello del Movimento 5 Stelle non c'è, perché se no, insomma, crederà le provocazioni... Se la prendevo, però... Stavo dicendo, è un territorio in cui le sfide diventano, diciamo, all'ordine del giorno. Tu prima hai aperto uno spaccato importante, partendo proprio dalla squadra calcistica, sulle strutture sportive. Tra Corigliano e Rossano ci sono un sacco di strutture sportive, ci sono due campi da gioco che hanno una buona capienza, ci sono due palazzetti dello sport che hanno capienze importanti. Non c'è, però, ancora, per ovvi motivi, una struttura centrale che possa, ecco, riunire le anime sociali, sportive, delle comunità di Corigliano e Rossano. O meglio, c'è una struttura nata alla fine degli anni 70, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, a Insiti, vicino al parco del nuovo ospedale, che era stata costruita proprio per lo sport, per una cittadella dello sport, e che oggi addirittura è fredda nel dimenticatoio, tant'è che un privato lì è diventato campo di cultura di un privato che ora non vuole andare via. Ecco, dove sta la provocazione? Partendo dalle strutture sportive. Io volevo chiedere, innanzitutto, a Francesco Galati come si stanno organizzando per la prossima stagione. Giocherete a Corigliano? Giocherete a Rossano? Farete un po' e un po'? E poi, approfittando ovviamente della presenza di un architetto, di un urbanista, e viaggiamo nell'ambito di un PSA che non è aggiornato rispetto alla visione della fusione. Il piano strutturale è associato a questo grande piano urbanistico del territorio. Ottima l'idea di valorizzare i centri storici. C'è però un punto di unione, anche strutturale, tra le due città. Ecco, Insiti può diventare davvero una cittadella a servizio, appunto, dei servizi, scusate il bisticcio di parole, delle due città? E poi andiamo avanti con le altre domande eventualmente. Allora, io farei completare questa cosa della struttura, poi si prepara l'architetto. Marco ha toccato un tasto dolente perché è al corrente, in quanto abbiamo la fortuna di averlo vicino in società, al corrente di molte problematiche. Quindi, purtroppo, attualmente non esiste una struttura comunale disposta a ospitare delle squadre di calcio a 5. Perché, mentre abbiamo visto lo scorso anno con il rifacimento dello Stefano Rizzo e del Brillia, lo stadio Brillia di Corigliano, attualmente ci sono delle strutture ottime per quanto riguarda il calcio a 11, mentre per il calcio a 5 sono tutte strutture sia pubbliche, diciamo pubbliche, in mano a privati. Gestione privata, quindi ovviamente con difficoltà per chi vuole fare attività. Attualmente noi siamo ancora, diciamo, in cerca di una struttura dove poter giocare. Ci sono diverse possibilità. Per assurdo abbiamo, diciamo, una concessione per l'utilizzo del Brillia. Ma al Brillia il calcio a 5 non si può fare perché ci sono delle strutture montate per la pallavolo. Tre mesi fa c'è stato un campionato europeo di pallavolo. hanno montato una struttura, quindi serve un intervento, diciamo, oneroso per il ripristino di questa struttura per l'utilizzo del calcio a 5. Quindi attualmente stiamo cercando di trovare una soluzione, diciamo, in maniera piuttosto travagliata. Cerchiamo in settimana, dovremmo avere una risposta dalla provincia per vedere se, insomma, una soluzione tra questi palazzetti inutilizzati dalle scuole e se riusciamo a trovare, insomma, una soluzione adatta al nostro progetto. Architetto, allora, insomma, il collega PSA, insomma, che poi è importante, perché qua, poi, tutto da lì di Cierne, compreso quello che è l'azione di recupero dei centri storici. Sì, certo. Si parte dalla pianificazione urbanistica, chiaramente, per lo sviluppo del territorio. Io non mi occupo, nello specifico, del PSA nel quale ricade l'area di Corigliano Rossano. Curo, però, sono nella redazione del piano di un PSA anche molto grande, che è quello di Cariati, Mandatoriccio, Terravecchia e Scalacelli. Chiaramente i punti in comune sono la cosa più importante quando si pianifica in modo associato, perché, chiaramente, se si trattasse di un singolo piano, ci si soffermerebbe soltanto sui benefici del singolo comune. Per cui, trovare dei punti d'incontro, delle progettualità che, in qualche modo, accomunano gli interessi e lo sviluppo dei comuni che, in rete, vanno avanti verso una stessa pianificazione, è fondamentale. Ritorno, però, come punto principale, quello di attenerci, cioè, comunque, di rivolgerci allo sviluppo del patrimonio edilizio esistente, perché, chiaramente, proprio le leggi urbanistiche attuali escludono l'utilizzo nuovo del suolo. Quindi, sono rivolte verso un utilizzo zero, quindi, soffermandoci su quello che già esiste. E questo lo si può fare anche non puntando immediatamente su delle strutture che necessitano, quindi, di fondi pubblici, che necessitano comunque di un iter progettuale lungo, soprattutto se sono progetti integrati. E parlo delle grosse infrastrutture alle quali facevi riferimento. Io penso che in questo preciso momento storico sia opportuno partire dal basso, cioè partire con delle iniziative, degli interventi, che non necessariamente comportano un aiuto esterno o dei processi lunghi, perché già di processi lunghi ce ne sono tanti in corso, tra cui i piani urbanistici e queste programmazioni che vanno avanti da anni, perché anche il nostro PSA di Cariati, con capofila comune di Cariati, è aperto ormai in procedimento avanzato, ma comunque sono 6-7 anni che va avanti. Per cui un processo di agopuntura urbana, quindi di utilizzo creativo del patrimonio esistente, può essere la chiave giusta per poter far partire, per poter smuovere l'economia locale e poi poter far anche, perché no, aprire ad un... aumentare l'occupazione. Quindi partire dal basso, cioè iniziare noi stessi. Noi abbiamo fatto, sempre con il progetto Nossos, delle iniziative di invasione pacifica nei centri storici, in cui praticamente si intavolava, cioè si svolgeva così, facendo delle passeggiate all'interno del centro storico, intanto per far riappropriare al cittadino stesso l'identità e la conoscenza dei propri luoghi, perché molto spesso chi è andato via non sa più neanche dello stato dei luoghi, non conosce più la realtà nella quale ha vissuto poi per tanto tempo. Per cui, riaprendo con queste invasioni pacifiche, si vuole un po' anche sensibilizzare il riutilizzo creativo di questi immobili, un po' come è stato fatto in diverse realtà più importanti della nostra, come per esempio ad Amsterdam, il quartiere navale, è stato riqualificato con questo criterio. Il primo a parlarne fu Lerner, che fu un sindaco illuminato in Brasile, nonché architetto urbanista, che non avendo mezze disposizioni, non avendo una pianificazione imminente, da poter portare avanti. Non avendo fondi, anche tra le favelas e una situazione sicuramente più degradata della nostra, è riuscito a riqualificare e a rendere attrazione turistica un posto che era ben più preso da problemi fognari, di luce, insomma, elettrici, e problemi di questo tipo. e questo noi lo possiamo fare, lo possiamo fare partendo da noi stessi, quindi sia con l'agopuntura urbana e anche, perché no, mettendo a bando, partendo dalla mappatura, si cerca di comprendere quali sono gli edifici effettivamente abbandonati, si mette un incomodato d'uso gratuito con un bando fatto ad hoc, rivolto chiaramente da artisti, a poeti, pittori, architetti, per cui si va a mettere mano con un investimento minimo che il Comune mette poi a disposizione, che riguarda una riqualificazione leggerissima, giusto per i servizi primari, quindi può accedere, può tranquillamente utilizzare i fondi propri del proprio bilancio, perché non parliamo di grosse cifre, di grandi numeri, dando l'incomodato d'uso gratuito a questi artisti, architetti, perché no, queste case diventano poi attrazione per i turisti stessi, perché vengono utilizzate in un modo, diciamo, più colorato, un po' come è stato per i box art a Cosenza, che ha realizzato il sindaco Chiuto. Marco. Sì, invece io volevo, anche, ecco, nell'ottica della provocazione, volevo chiedere, sia a Campana che a Martilotti, a Campana di fare uno sforzo, diciamo, retroattivo nel pensiero, Enel, nel 2008, se fosse, se si fosse chiuso l'accordo di riconversione della centrale Enel di Rossano, anche con una conciliazione un po' più, diciamo, positiva da parte dell'allora amministrazione comunale, oggi, nell'ottica di fusione, che cosa, cioè, cosa avrebbe rappresentato la centrale Enel per Corigliano-Rossano, mentre a Martilotti chiedo come si potrebbe rapportare il porto di Corigliano nel distretto marittimo, non più di Gioia Tauro, ma col distretto marittimo di Taranto, dal momento che siamo nello Ionio e le nostre sponde guardano la Grecia. Allora, Campana, due belle polpette e poi Martilotti. Beh, io di solito non sono abituato a ragionare con i sé e con i ma. Dico solo che ero tra i fautori della riconversione a carbone e questo è il risaputo perché, voglio dire, ero convinto, ero cosciente che una riconversione di quel tipo avrebbe portato grandi benefici al territorio, però non si è fatta. Siamo in queste condizioni e adesso speriamo che da questo sito venga fuori qualcosa di diverso, qualcosa che porti al territorio una certa ricchezza. Non c'è oggi, come dire, una possibilità diversa. Io vengo dall'esperienza, ho girato molto per le centrali d'Italia ma anche di Europa e vi posso dire che in Germania sicuramente a Colonia c'è una delle centrali grandissime, molto più grande di quella che si voleva fare a Rossano. A fianco viene prodotto un ortaggio che ha denominazione di origine protetta a fianco alla centrale. Per cui c'era la possibilità a Rossano di fare qualcosa di buono e di fare qualcosa di diverso. Però non è stato possibile, ne prendiamo atto, oggi speriamo che venga fuori qualcosa di buono. Penso per concludere quello che stavo dicendo prima a proposito della politica e non guardo solo alla politica di questo territorio che andremo ad eleggere nella prossima primavera, della politica in generale. Noi la settimana scorsa abbiamo ci siamo rivolti alla Regione Calabria per un altro problema importantissimo che è il ciclo idrico integrato delle acque. Per settembre anche qui aspettavamo delle risposte per cercare di capire la legge regionale è stata fatta ma è stata costituita anche l'autorità idrica con ben 40 sindaci della Regione per gestire questo percorso nuovo che andava dall'adduzione per l'acqua di rubinetti fino all'espulsione in mare per cui entra qui anche il discorso del turismo perché quest'estate sappiamo tutti quello che abbiamo vissuto qui in Calabria 800 km di costa ma la balneazione dappertutto è stata un pochettino carente anche in questo nostro territorio perché il depuratore è stato anche messo sotto sequestro dalla Guardia di Finanza e allora se si crea se si attua quello che la legge regionale già prevede che è stata fatta in ossequio a una direzione europea beh ne traiamo grandi vantaggi grandi vantaggi perché non ci mancherà più l'acqua ai rubinetti perché il mare sarà più pulito e di conseguenza anche il turismo sarà come dire ben accetto perché hai voglia di andare a costruire i villaggi turistici alberghi diffusi e quello che vogliamo ma se la gente oltre alla bellezza del territorio inteso come patrimonio culturale artistico culturale non trova anche la bellezza del mare non sa dove andare dove andare a mare beh probabilmente si farà uno sforzo inutile allora il politico inteso in senso lato da partire dalla regione per finire ai politici ai politici locali ai sindaci delle varie realtà territoriali devono mettersi in testa che questo territorio ha grandi potenzialità ma la colpa è della politica se non decolla questo è il concetto che io vorrei esprimere perché non è possibile andare alle garete greche questo non si può fare qui mettiamo il veto e qui non ci troviamo se non mi dai questo non dito quest'altro perché così è stato fino a questo momento in questa regione io spero solo che in futuro anche perché questo non so che cosa succederà nella nella politica regionale da qui da qui a breve perché siamo nell'ultimo anno di mandato del Presidente Oliverio non so se si presenta o non si presenta come sarà la geografia del prossimo futuro ma l'importante che al di là di chi poi vada a governare questa regione di chi governa il territorio poi si mettono in testa che non non è possibile continuare a fare questo tipo di politica Martino sì io penso cioè che ancora il mare come dicevo all'inizio può diventare il motore di sviluppo di questo nuovo comune per un semplice motivo perché oltre ad avere una fascia costiera fra le più importanti della Calabria ed Italia aggiungo beh c'ha una grande infrastruttura che fra qualche settimana compierà 51 anni dall'inizio dei lavori certamente era una di quelle famose cattedrale nel deserto che è nata per obiettivi diversi adesso nel corso degli anni abbiamo dovuto modificarli il problema che è sorto negli ultimi anni qual è? è stata una scelta corretta quella di accorpare diversi porti importanti della Calabria e un'unica autorità portuale che è l'autorità portuale di Gioia Tauro? è una domanda che mi faccio per un semplice motivo perché lo stesso ragionamento vale per Crotone per quello che mi riguarda non vedo molta allegria a Crotone in questa scelta adesso con le scelte fatte dal nuovo governo con il varo della nuova autorità portuale dell'area dello stretto a questo punto rispetto alla strategia complessiva che c'era sul piano comunitario sul corridoro tirrenico e adriatico Ionio sappiamo bene che il tirreno il sud tirreno con l'autorità portuale accorpata di Gioia Tauro con Messina diventava l'asse strategico del sud tirreno adesso non sappiamo cosa succederà allora la domanda che viene di seguito per il rilancio di questa nuova grande città della Calabria ma forse non è il caso di ripensare di stare all'interno dell'autorità portuale di Gioia Tauro e pensare invece di ragionare non più come area geografica regionale ma come area geografica omogenea allora in questo caso penso che il primo pensiero come scelta conseguenziale è quella di pensare di uscire da Gioia Tauro per entrare nell'autorità portuale di Taranto perché mi sembra quanto meno più omogeneo e io penso che anche rispetto ai costi che gli armatori supportano è difficile che una nave da Gioia Tauro possa arrivare qui a Corliano Rossano probabilmente arriverà prima a Vibbo oppure addirittura prima a Salerno per andare verso i mercati del nord Italia e in Europa ma personalmente sono anche di un'altra idea e l'idea è che forse il nuovo comune dovrebbe avere il coraggio di pensare a una forma di declassificazione del porto per un semplice motivo perché noi abbiamo detto all'inizio la Calabria è circa 800 km di costa un mare bellissimo però che non viene valorizzato in quanto tale ovviamente con gli accorgimenti dovuti sia alla depurazione sia alle nuove reti idriche fognarie all'altezza di uno stato civile di un comune diciamo di queste dimensioni allora se noi andiamo in questa direzione forse con la possibilità di poter gestire direttamente o attraverso società esterne con l'affidamento così come hanno fatto in tanti porti spagnoli allora forse potremmo puntare su quelle che tutti quanti noi vorremmo auspicare la realizzazione di linee di navigazione turistica per raggiungere le isole greche dell'Oionio oppure ormai la mitica il mitico Salento allora se noi andiamo in questa direzione forse partendo proprio dalla mega direzione di Bruxelles dove hanno inserito il traffico marittimo tutte le attività collegate al mare il mondo della pesca probabilmente riusciremo a trovare anche le risorse in questa direzione al momento che cosa dobbiamo constatare quello che diceva una giornalista con la quale ho collaborato in un report sui porti da pesca in Calabria che è Teresa Munari e lei bravissima ha definito questa struttura con due semplici parole il vuoto e il silenzio e io scherzando dicevo interrotto di tanto in tanto dal rumore di un'imbarcazione da pesca fino a diventare frazione di Gio e Tauro con lo sbarco e con il risultato del ceppato di legno di cui sentiamo l'odore ogni sera quando si mette la brezza notturna allora dico noi possiamo continuare in un'opera che è costata risorse enorme in 51 anni pensare che non ci possa essere un utilizzo diverso e non possa servire al territorio per creare le condizioni di sviluppo la pesca già negli anni passati e questo è un aspetto positivo però noi abbiamo dei tempi elefantieci che ovviamente che non vanno d'accordo con lo sviluppo con l'occupazione ci vogliono generazioni in te abbiamo creato l'opportunità di un varco per cercare di evitare che e ancora oggi purtroppo si ripete questo e io lo dico a malincuore che la pesca fosse da intralcio all'eventuale sviluppo dell'attività portuale questo no perché nell'ambito della seconda darsena quando la struttura era gestita dal consorzio ASI fu trovato l'accordo di posizionare la flotta peschereccio con la realizzazione dell'approdo pesca di stampo comunitario individuando il mercato lo scalo d'alaggio i servizi eccetera poi ovviamente i gestiti d'altri si sono persi perché ovviamente il vero motivo un po' della deblaccio in tutti questi anni è stata questa però possiamo recuperare per un semplice motivo perché abbiamo la grande fortuna di avere spazi ampi e di utilizzare soprattutto non per le disgrazie altrui ma i problemi che sono sorti con la struttura privata dei laghi di Sibari hanno fatto sì che e sono state anche acuiti dal nascere di nuove strutture in Basilicata nella zona ionica noi possiamo avere un grande apporto in termini di quella che per i piccoli pescatori costieri può essere un'azione molto efficace per recuperare reddito e occupazione quella di intersecarsi in altri settori come il turismo e la nautica oppure ci aggiungo pure io la gastronomia che tutti dimentichiamo che è quella più rilevante nell'ambito della manutenzione dei battelli io penso che noi abbiamo gli spazi adeguati senza concorrere senza sovrapporci a strutture private come i laghi di Sibari per creare benefici innovativi soprattutto in un comune che aspetta grandi risultati dall'azione dei prossimi amministratori allora l'augurio che voglio fare ai prossimi amministratori pensate recuperiamo il flag Corliano Rossano togliamo chi sta gestendo o non sta gestendo bene questa struttura perché magari sul piano operativo sarà pure bravo però non fa nessun interesse per essere attrattore nei confronti di questo territorio in termini di occupazione e in termini di sviluppo e i pescatori i piccoli pescatori costieri sono al parco per quanto riguarda la struttura portuale abbiamo bisogno non del lomino che viene da Geotauro per rendicontare di tanto in tanto le cose una volta alla settimana abbiamo bisogno non di aumento di burocrazia ma abbiamo bisogno di gente che mette in moto le energie che ha questo territorio per creare sviluppo allora se facciamo così ecco questo nuovo comune decollerà ovviamente ed è una cosa nelle aspirazioni di tutti grazie Matrot ha esaurito il suo tempo ne abbiamo pochissimi secondi ma Matrot l'ha detto già quello che volevo chiedere a voi cioè cosa immagina io visto che insomma ognuno di voi rappresenta un po' un mondo in 30 secondi a testa come ve l'ha immaginato questa città fra dieci anni auspico una città unita una città unica reale una città unita da parte dei cittadini una città unita dal punto di vista geografico dal punto di vista tecnico ma quando c'è noi abbiamo imparato la storia insegna che quando c'è unione da parte dei cittadini speriamo di contribuire in questo si può fare tutto oltre 40 anni fa immaginavo una città una città unica insieme ad un mio carissimo amico che purtroppo purtroppo non c'è più e viaggiavamo spesso per andare a Catanzaro facevamo attività sindacale insieme e ragionavamo sempre su questa potenzialità che esprimevano i due territori di Rossano e di Corigliano beh oggi quando questo è avvenuto lui ancora era in vita io sono rimasto sono stato contento perché abbiamo visto con 40 anni di anticipo quello che sarebbe avvenuto auspico davvero che i cittadini siano davvero uniti e lo sono già davvero uniti i cittadini di Rossano e di Corigliano non badano a tante a tante sottilezze sottigliezze come come qualcuno come qualcuno dice il territorio è unico il non ci sono non ci sono diversità si deve si deve viaggiare verso un unico obiettivo che è quello della crescita comune di questo territorio siamo su una fascia costiera diceva Martilotti siamo abbiamo la montagna a due passi abbiamo cultura abbiamo storia abbiamo arte abbiamo tutte le potenzialità per crescere facevamo prima l'esempio l'esempio di La Mezzia non tutto è stato negativo La Mezzia La Mezzia oggi è un nodo ferroviario aeroportuale autostradale importantissimo per la regione il centro della Galabia è La Mezzia perché 50 anni fa ha avuto l'accortezza di fare questa unificazione tra i tre piccoli comuni del territorio noi lo abbiamo fatto forse con un po' di ritardo ma siamo in tempo per recuperare Architetto Felice lei come la vede questa ma io spero che la come la immagina da architetto ma anche da donna una città che possa puntare sui suoi marcatori identitari distintivi quindi che possa fare la differenza sul territorio puntando su quelle che sono le eccellenze che ha che sono caratterizzate che caratterizzano la città stessa e quindi questo possa essere un promotore economico forte occupazionale e di produttività in generale insomma quindi anche una città che abbia dei simboli futuri esatto che siano una bandiera sia romantica ma soprattutto che possano essere competiti che possano fare della città una città competitiva sul mercato dal punto di vista turistico e da tutto quello che poi ne conviene grazie grazie a Gino Campana rappresentante Will Tech che insomma racchiude i lavoratori dell'energia chimica e tessile grazie all'architetto Francesca Felice che ci ha insomma Felice c'è poi Felice che è anche un nome cosentino l'architetto Felice ci ha insomma illustrato questa idea che verte sui centri storici grazie al presidente Salvatore Martilotti per questa associazione Piccola Pesca e grazie a Galati che gli facciamo Gino Francesco Galati che gli facciamo in bocca al lupo per la sua squadra e qui a fianco a me ringrazio Marco per avere condotto insieme a me questa chiacchiarata le nostre due puntate momentaneamente dedicate in trasferta a Corigliano terminano qui ma sicuramente sicuramente questo nostro dialogo proseguirà Pubblica Piazza finisce qui alla prossima grazie a tutti Autore dei sovrapposti